Anche quest'anno siamo giunti a questo fatidico giorno, la festa di innamorati, San Valentino. E' una festa che ormai assume anche i contorni di un vero e proprio merchandising, però non è questo di cui voglio parlare. Voglio parlare di San Valentino per i single. Mi ricordo anch'io quando ero single e vedevo i miei amici accoppiati, fidanzati o addirittura sposati che passavano questo giorno, la sera uscivano a cena e provavo io una sorta di malinconia, perché vedevo che ero un po' diverso dalla massa, ero un po' diverso da loro essendo single in questo giorno. Cosa accade? Che ogni tanto ci si affida alle app, ai social e si spera in 4 e 4-8 di imbastire un incontro, di uscire una sera con qualcuna che sia un surrogato dell'amore dell'innamorata. E ovviamente, come sempre, questa cosa non funzionava, perché in poco tempo non si può, con la fretta non si può fare questa cosa, insomma. E niente, io vi do un consiglio, vi do un consiglio di oggi pensare a voi stessi, di prendervi cura di voi, di cocolarvi, di farmi un regalo, di andare alle terme, in un centro di bellezza, prendetevi cura di voi stessi, insomma, fate sport e passate anche del tempo con i vostri amici single, perché penso che ne abbiate di amici single, ecco, che condividono con voi questa situazione, che è anche un'estensione normale della vita, e anzi, non è che siete dei malati, ecco, o io ero un malato quando lo ero. Niente, non abbiate fretta di trovare l'amore, di trovare la persona giusta, perché lì fuori c'è una persona come voi che vi sta cercando, e sono certo che l'anno prossimo lo passerete proprio con questa persona, il giorno di San Valentino. Un saluto.